Siamo impegnati con determinazione per le persone colpite dal terremoto, l'ho già ricordato, e nessuno, istituzioni, governo, cittadini, lascerà solo nessuno. Gli interventi saranno immediati, sono in corso e sono molto fiducioso che saranno efficaci. In questi momenti riscopriamo come l'unità sia un bene prezioso per tutti. Il Paese si salva solo se unito.